Noi andiamo in pullman al castello di Cardiff Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il Presidente di Slovacchia Il Presidente di Slovacchia Il Presidente di Slovacchia Grazie. Grazie. Stadion barriers, upwards, towards. Stadion barriers, by the approach, quick march. главное, Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Prime Minister, how are you? Good to see you sir. Mr. Prime Minister, or call wife, sir. How are you? Not for strength. Nice to meet you. Grazie a tutti. Grazie a tutti.